ciao a tutti bentornati sul canale youtube di easyarp allora oggi vi do due suggerimenti due dritte per quanto riguarda l'amplificazione dell'armonica in particolare quando si utilizza un bullet collegato a un amplificatore come gestire i volumi volume del microfono volume dell'ampli e quant'altro dunque avevo già in mente di fare questo video poi stamattina ho risposto una mail di davide meno menozzi ciao davide che mi ha praticamente servito lo spunto per fare questo video io ho già risposto davide che mi poneva proprio questa questa domanda senti ho scoperto di fare un errore ovvero io quando uso il bullet adesso non mi ricordo esattamente quale bullet se guardi il video davide magari poi commentare e farci sapere esattamente quale modello mi sembra il green bullet della sure è quello il dx 520 forse quello col col potenziometro l'errore di davide era di mettere il tenere il volume del microfono molto basso e di alzare parecchio il volume dell'amplificatore sì questo è un sistema sbagliato almeno in linea di massima io vi do due linee di principio da per orientarsi poi bisogna sempre dire che ogni microfono funziona al suo al suo suono e il livello di di potenza e ogni amplificatore a seconda ci sono tantissimi modelli alla sua potenza a diversi potenziometri c'è la possibilità di interagire col suono in diversi modi e ogni amplificatore e funziona a delle caratteristiche specifiche e chiaramente bisogna un po sperimentare ok comunque la prima cosa è collegare il bullet all'amplificatore tenendo diciamo i potenziometri dell'amplificatore a zero quindi volume zero anche toni e quant'altro la cosa che io vi suggerisco di fare che in linea di massima funziona è di tenere il volume se c'è il volume del bullet perché ci sono anche bullet senza volume quindi hanno il volume al cento per cento se invece avete il potenziometro del volume tenetelo al cento per cento partite col volume a palla il volume del microfono intendo dopo di che cominciate ad alzare il volume dell'amplificatore adesso ci sono diversi tipi di amplificatori c'è sono amplificatori che hanno un solo potenziometro quindi il volume ci sono amplificatori che hanno volume e tono e il tono gestisce un po la timbrica più brillante più scuro e quant'altro poi ci sono amplificatori che hanno i toni divisi treble alti middle medi bass bassi e quindi c'è la possibilità di creare un suono ancora più particolareggiato o enfatizzare alcune frequenze e magari chiudere di più altre frequenze e poi ci sono gli amplificatori che hanno il volume separato tra pre e post ovvero pre amplificazione e l'amplificazione vera e propria la pre amplificazione di solito è quella che dà un po più di gain cioè di distorsione e di conseguenza quindi posso decidere in partenza quanto gain quindi eventualmente quanta distorsione dare al suono e poi ho il volume del post che decide il proprio il livello di volume quindi si dipende poi ci sono amplificatori che hanno di entrate diverse per diversi livelli di segnale adesso faccio un discorso un po generico ok un discorso un po generico dove ipotizziamo un amplificatore con il volume il volume e o il tono oppure i pomelli treble middle e bass quindi io parto con il volume del microfono a palla ok e con tutti i toni bassi se c'è reverber oppure lo aggiungerò eventualmente dopo ok tutto a zero alt comincio ad alzare soltanto il volume chiaramente se un amplificatore tipo il fender blue junior che ha volume e master in realtà guardando le specifiche volume è il gain quindi il pre e il master è il livello di uscita generale dovrò regolarli un po tutte e due quindi inizio ad alza fondamentalmente devo iniziare ad alzare il volume e alzo quanto basta chiaramente per rendere udibile il suono quindi la prima cosa microfono a palla e alzo il volume dell'amplificatore e comincio a sentire adesso il problema grosso dell'amplificazione dell'armonica dell'elettrificazione dell'armonica e il larsen e il feedback è il fischio la tortura di tutti gli armonicisti per un po di tempo no perché bisogna imparare a gestire le cose e l'attrezzatura ma soprattutto imparare a conoscerne le caratteristiche quindi io alzo il volume comincia ad alzare il volume dell'amplificatore quanto bassa fin quando poi sento che a un certo volume comincia a fischiare quindi mi rendo subito conto di qual è il livello ok massimo che posso ottenere alzando soltanto il volume dell'amplificatore e tenendo il volume del microfono sempre a palla quindi arrivo trovato la soglia dell'arsen scendo di volume cercando di tenere chiaramente sempre un volume audibile l'amplificatore più possibile che punto il cono che punta verso di me verso le mie orecchie miglio devo sentire il suono diretto se per terra piuttosto lo inclino oppure lo metto su un tavolo insomma devo sentire il suono diretto bene abbasso un po la soglia quindi mi tengo un po di margine a quel punto se ho i potenziometri del tono o delle di equalizzazione delle tre bande comincerò a capire come interagiscono sul suono regola generale per capire effettivamente come opera ogni potenziometro perché ognuno di questi ha una funzione specifica ma poi comunque interagisce con tutti gli altri allora andate separate le singole funzioni quindi io parto con un volume normale vado magari ho soltanto tono ok e allora la regola è sentite gli estremi andate proprio timidi timidi sentite tutto chiuso se volete sentite il suono tutto aperto e sentite il suono in questo modo vi rendete subito conto di qual è la funzione di quel potenziometro quindi se c'è soltanto il tono chiuso probabilmente sentirete un suono più più scuro e alzando al massimo il tono sentirete un suono molto brillante e a quel punto potrà succedere facilmente che quando andiamo ad aprire completamente il tono magari si innesca larsen perché comunque anche il volume generale del suono cambia male ci sono frequenze che innescano più facilmente e altre che innescano meno quindi se esagero con gli altri probabilmente comincia a fischiare quindi trovo una una combinazione un livello che funziona usate l'orecchio e fatevi guidare dall'orecchio a quel punto il mio amplificatore tipo fender pro junior che ha volume e tono io riesco a trovare il suo suono allora può essere e quindi devo arrivare a un livello di suono udibile poi se mi trovo in una situazione dove il volume dell'amplificatore non è sufficiente magari sono suonando con una band dove il volume degli altri musicisti supera il volume del mio amplificatore io sarò limitato anche perché se alzo fischia a quel punto dovrò microfonare il cono del mio amplificatore farlo microfonare dal tecnico suono di sala ea quel punto far uscire il suono microfonato anche dall'impianto quindi non bisogna esagerare ogni amplificatore ha il suo massimo volume a meno che non si usino dei pre amplificatori che riescono a sfruttare meglio l'amplificatore ma questo è un altro caso poi c'è la questione che ogni microfono al suo livello di uscita ci sono microfoni con un suono più potente e suoni e microfoni con un suono meno potente quindi di base io parto col volume al massimo del microfono se il mio microfono è un segnale molto potente questo potrebbe causare già in partenza eccessiva distorsione dipende anche da come interagisce con l'amplificatore dipende da quale amplificatore vado a collegare il mio bullet se mi rendo conto che comunque il suono alzando il volume è già troppo distorto a quel punto posso pensare di abbassare un po ok tipo da 100 per cento vado al 75 per cento per intenderci provo abbasso un po il volume del microfono magari diminuisce la distorsione a quel punto posso alzare di più il volume dell'amplificatore e riesco magari ad arrivare a un volume superiore senza che si inneschi il fastidiosissimo fischio insomma trovo subito un compromesso perché non ci sono purtroppo condizioni sempre uguali ogni microfono amplificatore si devono capire ci sono microfoni che vanno bene su determinati amplificatori e meno bene su altri comunque questo tu hai a disposizione cerca di sfruttarlo al meglio ok hai un microfono un amplificatore sicuramente un suono decente lo si riesce a tirare fuori se hai più possibilità di regolazione del suono per esempio ai treble middle e bass parti come sempre al volume vai al massimo torna un po indietro per avere un po di margine dopodiché tieni potenziometri a zero dopodiché col suono udibile prendi ogni singolo potenziometro per esempio bass i bassi da tutto chiuso mettilo al massimo e senti la differenza potrebbe succedere che portandolo al massimo si inneschi il fischio questo perché stai enfatizzando troppo quelle frequenze però scopri la funzione di quel potenziometro che come come è possibile modificare il suono attraverso quel potenziometro dopodiché senti la differenza da tutto da 0 a 100 ok riporta senti la differenza e richiudi vai al middle ok ai medi fai la stessa cosa anche qua probabilmente quando esageri coi coi medi sentirei che magari tende a fischiare ok senti la differenza da 0 a 100 fai lo stesso lavoro sui treble ok quindi capisci come inter come la funzione di ognuno di questi potenzione potenziometri è molto importante però poi andranno a interagire tra di loro perché comunque il tutto va influire il suono quindi per esempio tu avrai puoi pensare di alzare i medi cominciare alzare i medi cominciano alzare i bassi cominciano alzare gli altri e spippola un pochettino senza esagerare per sentire cosa succede nelle varie sfumature cercando sempre di non portare mai al limite il il pericolo di larsen perché tu devi riuscire a suonare serenamente non che ogni singolo movimento in tre per due cominci a fischiare perché sennò diventa una cosa ingestibile troviamo un equilibrio tra tra le diverse regolazioni di base il volume dopodiché porta i bassi per esempio a volte a seconda degli amplificatori gli altri possono rimanere tranquillamente completamente chiusi dipende anche poi dal suono della capsula del tuo amplificatore se enfatizzi i medi sicuramente darai una bella spinta al tuo suono però non devi esagerare se chiudi completamente i bassi ti perdi un po' di ciccia se vuoi avere un suono un po' più brillante regola gli altri quanto basta questa è un po' la linea poi bisogna provare e bisogna provare anche diverse situazioni l'importante è che tu senti bene il suono il cono deve puntare verso di te poi un conto è portare l'amplificatore in sala in sala prove un conto è a casa è un conto sul palco di un concerto ma l'importante è che tu senta bene il suono del tuo amplificatore se non ti soddisfa il risultato e eventualmente potrai inserire tra il microfono e l'amplificatore un pre amplificatore ci sono diversi prodotti in commercio specifici per armonica per esempio la long wolf blues company fa degli ottimi prodotti tipo l'arp break l'arp attack blue x lab di max manganelli io utilizzo il king b che è ottimo dal mio punto di vista a quel punto io riesco a gestire ancora meglio il suono però prima devo conoscere cosa sto utilizzando perché se metto tutto in campo all'inizio poi mi posso perdere comincio a spippolare senza capire che cosa succede quindi devo conoscere il suono che viene fuori da l'accoppiata microfono bullet e amplificatore riuscire a sfruttarlo è al meglio se non mi basta inserisco qualcosa per dare magari un po più di distorsione un po più di definizione taglio magari ci sono troppi bassi li taglio e riesco sicuramente a far lavorare meglio il mio amplificatore però di base ogni amplificatore al suo suono ogni microfono al suo suono quindi la di base devo imparare a conoscerlo un blues junior non suona come un fender bassman e io lo so perché il bassman poi l'ho venduto recentemente però aveva il suo suono il blues junior ha un altro suono ci sono amplificatori che non hanno magari bisogno di hanno già una compressione tipo il bassman già la sua compressione naturale potentissima però un amplificatore a 50 watt pesa 30 kg l'ho venduto anche perché terzo piano senza ascensore diventava un po complicato ma in realtà ho imparato a sfruttare al meglio il mio fender blues junior quindi non ho bisogno di maggiore potenza però posso anche dirti che se io conosco molto bene il mio fender blues junior e alla fine so già quali sono le regolazioni che vado a cercare perché dopo un po le ritrovi le memorizzi eventualmente puoi modificarle un pelino a seconda della della situazione però se io cambio microfono la cosa cambia io un altro microfono sempre col potenzione del volume artigianale che mi ero fatto fare dagli stati uniti quello è potentissimo ma veramente quasi troppo per cui in quel caso per esempio mi rendo conto che quando ho il volume del microfono al massimo ho subito una distorsione molto potente e quindi c'è pericolo che inneschi più facilmente quindi a volte devo tenerlo un po più basso se prendo un sm 57 col trasformatore di impedenza e lo collego al fender blues junior invece dovrò probabilmente aumentare il volume del gain per aggiungere una distorsione che in parte posso riuscire a ottenere soltanto col microfono però un sm 57 anche col capo un po va in compressione ma non come un bullet quindi in quel caso devo aumentare un po il livello del del gain dell'amplificatore sempre che ci sia la possibilità di farlo comunque giusto per riassumere se hai poi magari farò anche qualche altro video magari vi farò anche ascoltare qualcosa qualche differenza però di base la regola tu prendi segui questi consigli vedrai che non ti sbagli parti dal volume al cento per cento del microfono non essere timido perché è importante cominciare a sfruttare appieno la potenza di uscita del segnale in uscita dal tuo microfono se tu invece parti col segnale basso e parti già con un volume basso che dovrai poi esagerare per amplificare tramite l'amplificatore tu sfrutta al massimo la potenza del tuo microfono e poi vedrai eventualmente di abbassarlo per esempio ci sono persone che prendono il dx 520 della shure che è un microfono che funziona chiaramente però c'è di meglio sicuramente è per esempio si fanno togliere direttamente il scollegare il potenziometro del volume per avere sempre il cento per cento tra l'altro ogni potenziometro fondamentalmente lavora da attenuatore e quindi a volte rischio che col potenziometro del volume io anche al massimo non ho mai il vero proprio cento per cento c'è un minimo di attenuazione cioè motivo per cui a volte c'è chi non usa il microfono i microfoni con il col potenziometro del volume oppure lo fa scollegare dalla circuitazione del microfono comunque spero che queste due dritte ti possano tornare utili mi raccomando trova l'equilibrio giusto ma soprattutto ricorda che il suono il grosso del suono lo fai tu ne approfitto anche per ringraziare i miei patreon i i miei sostenitori sulla mia nuova pagina patreon ho aperto recentemente una nuova pagina patreon la trovate linkata qua sopra in descrizione la famiglia sta aumentando sono veramente molto molto contento c'è chi appunto ha ha voluto sostenere con un abbonamento mensile di pochi euro di 5 euro al mese la mia attività divulgativa e didattica che già porto avanti qua su youtube e in più per tutti i miei Patreon iscritti come membri nella mia pagina ci sono già diversi contenuti pubblicati ho recentemente anche avviato un corso un videocorso di teoria musicale applicata all'armonica nuovi contenuti sono in arrivo quindi se ti piace quello che trovi già qui su questo canale youtube facci un pensiero vai a curiosare sulla mia nuova pagina patreon e sicuramente se avrei voglia di diventare anche tu mio sostenitore mio patreon sarò veramente contento di accoglierti nella famiglia bene questo era il video di oggi spero che ti sia piaciuto che ti sia soprattutto utile se così è stato magari lascia il tuo like se non sei ancora iscritto al canale iscriviti e clicca anche sulla campanellina per ricevere aggiornamenti quando pubblicherò un nuovo video qui sotto in descrizione trovi tutti i miei link la mia scuola online di armonica blues easyarp 2.0 www.easyarp.it con tutti i miei corsi il mio link affiliato amazon il mio easyarp store negozietto di magliette e merchandising la pagina del mio patreon e quant'altro trovi tutto sotto in descrizione bene un saluto a tutti ci vediamo alla prossima e ricordate che impara suona l'armonica è facile con easyarp take it easy take it easyarp ciao ciao